When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks Darling I Nella sala del consiglio comunale di Mondavio Oggi si terrà un convegno dal titolo L'economia del territorio e il ruolo della banca locale L'incontro è stato organizzato dal comune in collaborazione con Banca Suasa Credito Cooperativo Il comune di Mondavio oggi ospita questo incontro che vede protagonisti diversi attori Sì, un convegno sull'economia del territorio e in modo particolare sul ruolo della banca locale Siamo in un periodo di ripresa economica, così ci indicano tutti i fattori macroeconomici Però una ripresa economica che ancora nella vallata del Cesano e nel nostro territorio provinciale Stenta diciamo a partire In questo momento quindi fondamentale è il ruolo che il credito, il mondo del credito ricopre per il sostegno diciamo all'impresa E in modo particolare il ruolo che il mondo del credito cooperativo storicamente sui nostri territori ha avuto E ci auspichiamo continui ad intraprendere Un'occasione di confronto dunque? Sì, in modo particolare la giornata di oggi vuole avere questa finalità Porre a confronto le istituzioni, il mondo del credito e le principali associazioni di categoria Che rappresentano il mondo dell'impresa Sempre di più questi tre attori devono dialogare tra loro E se questo dialogo c'è i risultati poi sul territorio si ottengono Il sistema del credito ha subito una profonda crisi Oggi qual è il ruolo appunto delle banche nel territorio? Le banche locali nel territorio secondo me sono importantissime Perché possono aiutare l'economia locale E essere un volano per l'attività economica delle famiglie e delle piccole imprese Le banche di credito cooperativo come la nostra, la banca Suasa Che costituisce circa 4.000 soci Ha aderito al gruppo Cassa Centrale Cassa Centrale Banca dove partecipano con oltre 100 banche E ha una situazione patrimoniale più solida di tutto il sistema delle banche italiane Quindi noi siamo orgogliosi di far parte di questo gruppo Vicino anche alle imprese, vicino alle famiglie In questo periodo insomma è una situazione davvero importante appunto perché si trovano in difficoltà Ma noi siamo sempre stati vicini alle famiglie Considerate che noi nei nostri mutui non utilizziamo il tasso pavimento Cioè vuol dire che noi autorizziamo l'euro ribo se è 0,25 e noi lo applichiamo Quindi i nostri soci che hanno acquistato la casa in prima casa risparmiano circa 2.000 euro all'anno Sono utili che noi non abbiamo come banca ma li abbiamo distribuiti nel territorio Ma non solo questo, la nostra banca ha anche costituito una cassa mutua La sua asa vita dove ci sono circa 1.500 soci che fa prevenzione Abbiamo fatto prevenzione cardiaca, abbiamo fatto del melanoma Perché abbiamo i beni dei nostri soci e quindi la prevenzione che noi la riteniamo molto importante Non ci vogliamo chiaramente sostituire al servizio nazionale Però vogliamo essere di supporto al territorio, ai soci dove la banca opera Tale, lei da ex sindaco di Mondavio conosce molto bene il territorio e dunque anche Banca Suasa Sì conosco il territorio Banca Suasa Banca Suasa per questo territorio che naturalmente non si limita al comune di Mondavio Ma a tutta la Vallata del Cesano e anche oltre perché è non solo la provincia di Pesor ma anche la provincia di Ancona Ma quello che posso dire di Banca Suasa per quanto riguarda il valore che ha avuto nel nostro territorio È sicuramente un valore dal punto di vista sociale ed economico naturalmente Dal punto di vista economico è una banca radicata nel territorio E le banche radicate nel territorio sono molto funzionali soprattutto all'economia del territorio stesso Per fare un esempio, un giovane che vuole emergere molto più facilmente riesce a prendere un contributo A prendere un mutuo e quindi da una banca piccolina del territorio come questa Che conosce il giovane, che conosce la famiglia e quindi può affidarsi del giovane stesso Che una banca dove il consiglio di amministrazione magari è in Lombardia Che sicuramente non conosce il giovane del posto Questo dal punto di vista economico L'altra questione molto ma molto importante è quella dal punto di vista sociale Avendo fatto come diceva il sindaco qui per diversi anni e l'amministratore in generale So benissimo qual è stato lo scopo di questa banca Quante volte ho bussato alla banca per raggiungere degli obiettivi proprio a livello amministrativo All'interno del comune e per i cittadini Un esempio su tutti, noi avevamo il teatro chiuso da diversi anni Siamo riusciti a riaprire il teatro ma l'abbiamo riaperto grazie all'ultimo contributo strategico E quello funzionale per aprire il teatro di 50.000 euro che la banca ci ha dato Logicamente andare a chiedere questi contributi a una banca che non è radicata nel territorio Che non conosce la funzione che può avere quel teatro La funzione sociale, la funzione culturale di quel teatro nel territorio E una banca esterna sicuramente non avrebbe dato quella cifra Un'altra cosa importante che ho chiesto a quella banca E che subito mi è stata vicino per un altro servizio importante ai cittadini E' stato proprio qui all'ingresso Noi il turista quando veniva a Mondavio E Mondavio di turisti ne ha Perché comunque abbiamo solo alla Rocca 20.000 visitatori l'anno Ma quando arrivava il turista non si sa quante volte Mi chiedeva anche a me che magari passeggiavo per la piazza O che per venire in comune mi incontravo nella piazza Un bancomat Noi non avevamo, essendo un luogo piccolo, 4.000 abitanti Non avevamo il bancomat nella piazza Avevamo chiesto anche ad altre banche se erano interessate Ma sicuramente non c'erano i numeri E non potevano aprire uno sportello bancomat Fare un investimento di questo tipo per un centro così piccolo come Mondavio La banca Suasa ha capito l'esigenza del territorio E ha aperto uno sportello bancomat proprio qui sotto E a quel punto abbiamo dato veramente anche qui al turista un ulteriore servizio In che modo la regione Marche sta intervenendo in questo settore? La regione da qualche settimana ha pubblicato un bando Che stanzia 24 milioni di euro per l'aggregazione dei confidi I confidi sono uno strumento molto importante per le banche Che consentono quindi di fare garanzia e controgaranzia E questi 24 milioni di euro noi presumiamo che libereranno circa 200 milioni di investimenti Quindi non solo un confidi più patrimonializzato Ma anche un confidi che abbia minori costi di commissioni ad esempio Ma soprattutto che sappia erogare anche maggiori servizi Non solo quindi garanzia investimenti alle imprese Ma ad esempio anche microcredito Professore le banche locali sono sicuramente una risorsa fondamentale per i cittadini Sì, lo sono sempre stato E speriamo che lo siano anche in futuro C'è un problema ovviamente della loro capacità di stare sul mercato Cioè mentre riescono Continuano a essere ancora un punto di riferimento per le imprese locali Le famiglie locali C'è un problema di costi Cioè attualmente dati i livelli dei tassi e dell'interesse Le banche sono troppo piccole Hanno dei costi fissi elevati Quindi c'è anche un problema di sostenibilità di queste realtà piccole A differenza sicuramente di altre banche a livello nazionale Però riescono a stare più vicine alle famiglie, alle imprese stesse Sì, sì, questo è vero Infatti c'è questo modello nella teoria che studia questi fenomeni Questo modello relazionale della banca Che si basa molto sul rapporto diretto tra la banca I funzionari della banca e gli imprenditori o le famiglie In cui si riesce a valutare meglio la capacità anche di rimborsare il finanziamento richiesto Ma si sta registrando una ripresa economica? A livello nazionale? Certo Ci sono per quanto riguarda il nostro territorio I dati della Banca d'Italia recenti usciti all'inizio di novembre Danno ancora una situazione molto diversificata a livello regionale Ovviamente per via anche degli fenomeni legati al terremoto Mi sembra che la regione stia ancora in una situazione di uno stallo Anche se ovviamente ci sono realtà molto positive Ci sono quelli che si chiamano le imprese di riferimento del territorio Che hanno superato la crisi molto bene Che stanno facendo da traino anche per il resto del territorio Quindi un ruolo importante in questo senso ce lo hanno anche le istituzioni? Ah certo, il buon funzionamento delle istituzioni È forse l'elemento fondamentale Perché è un elemento trasversale che va a favore sia delle famiglie che delle imprese Sabina, lei oltre ad essere presidente di Fide Impresa Marche Gestisce anche uno stabilimento balneare Per cui conosce in prima persona il problema del credito Sì, come tutte le piccole imprese del nostro territorio marchigiano Siamo la realtà più artigiana a livello nazionale La provincia di Pesaro da cui provengo addirittura La provincia più artigiana proprio a livello nazionale Le nostre imprese sono delle realtà minime Che sicuramente non possono essere considerate con dei meri rating bancari E in tutto questo io credo che le BCC un'attenzione particolare Ce l'hanno sempre dedicata Un po' lo spot, la mia banca è differente Devo dire che mai il spot è stato più azzeccato Insomma sentite questa vicinanza anche perché è fondamentale per le vostre attività Sì, per tutte queste imprese che appunto Faticano a dimostrare attraverso i numeri La loro potenzialità proprio economica Che comunque riguardano tutto il nostro tessuto sociale E sicuramente sono anche attività che non hanno creato problemi bancari Il grosso delle insolvenze bancarie Non le riscontriamo assolutamente Negli artigiani, nelle piccole imprese Che sono la realtà del nostro territorio Bocchino, quante sono nel nostro territorio le micro e le piccole imprese? Nella regione Marche, ma se vogliamo anche nel dettaglio delle province Noi abbiamo circa 125.000 imprese che operano entro i 50 addetti Quindi questo vuol dire in realtà circa 300-330 addetti Quindi questo è lo spaccato nella nostra regione Dell'importanza dell'artigianato O della micro e piccola impresa Verso cui dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione Come nel caso avviene oggi Sia di tutela dell'economia del territorio Ma al tempo stesso anche di capacità Del sistema bancario Di essere attenti alle esigenze di queste imprese Quelle artigiani nello specifico quante sono? Gli artigiani nella regione Marche Sono 45.000 con una distribuzione più o meno equa nelle varie province Perché abbiamo modelli provinciali abbastanza simili Di distribuzione territoriale dell'impresa Su un panorama complessivo di circa 120-130.000 aziende presenti Questo per noi vuol dire come associazione Essere sempre vicini a queste aziende Con una distribuzione e capillarità sul territorio importantissima Proprio in questa provincia Per esempio con Fartigiano Ancona Pesaro Urbino Nel corso degli ultimi anni Pur cercando di seguire modelli di efficientamento E di efficientamento come ha detto poco fa il professore Anche è vero che noi abbiamo aperto altri uffici Soprattutto nell'entroterra Pensiamo a Piobbico, pensiamo a Cagli Pensiamo comunque al potenziamento di aree interne Questo vuol dire comunque riconoscere Un territorio fatto da micro e piccole imprese Che ha bisogno di presidi Sia associativi ma non solo Molto importanti Oggi è venuto fuori in sintesi un principio Piccolo e bello, organizzato ma sempre piccolo Dobbiamo ricordarci che veniamo da questo mondo E perché non appunto con la vicinanza di banche come Banca Suasa? Ma guardi la BCC di Suasa non è una scoperta di oggi E non serve l'evento di oggi per affermare la loro importanza Queste BCC, oggi citiamo la Suasa Ma oggi la Suasa è portatrice di un interesse Di una rappresentanza del sistema delle micro e piccole imprese Le BCC sono l'ossatura In questi piccoli paesi Oltre ai presidi istituzionali Poi è la banca e l'associazione Le uniche espressioni del mondo privato Che in qualche modo presidono il territorio Suasa è conosciuto da tantissimi anni Oggi il presidente citava proprio Quasi il traguardo dei cent'anni Che noi auspichiamo possano celebrare E chi arriva a cent'anni nel mondo anagrafico Oggi viene considerato come dire Una grande eccellenza Tutti vorrebbero avere un anziano in casa Un nonno che fa cent'anni Quindi avere i BCC di Suasa che fa cent'anni È un traguardo, un augurio E nella modernità anche di nuovi servizi Che loro oggi hanno presentato come la cassa muta Quindi sicuramente cogliamo questa capacità della banca Nella tradizione guardare avanti E noi ringraziamo di questa attenzione Che la Suasa dà su questa vallata Che ricordiamo è vero È una vallata difficile Sicuramente a cavallo fra due province E non a caso, forse proprio qui Questa banca è riuscita in questi anni Insieme all'associazione, anche a Confartigionato A essere vicino alle micro e piccole imprese Giorgio, una banca che è nata a Sant'Andrea di Suasa E poi si è radicata fortemente nel territorio Quante sono ad oggi le filiali? Sì, intanto è nata nel 1919 E cent'anni quasi li porto molto bene Questo mi fa molto piacere Le filiali sono otto Si è sviluppata da Sant'Andrea di Suasa Che è una frazione qui vicino di Mondavio Negli ultimi vent'anni poi è scesa a valle Monteporzio-Mondolfo E poi è andata una nord a Fano E tre a Senigallia e una a Montemarciano Quindi con una dislocazione quasi a T Rivolta al mare Oggi il Comune di Mondavio ha ospitato questo convegno Che avete ovviamente organizzato insieme Per parlare di questa realtà Come è andato l'incontro? Ma molto bene Gli interlocutori erano molto qualificati Sono venute fuori cose interessantissime E molto importanti Ma si è ribadito una volta Tanto e mi ha fatto piacere Che l'economia è formata da micro aziende Diceva un interlocutore Il 95-96% è formato da piccole aziende E finalmente mi ritorna la frase famosa Che diceva tanti anni fa Te sei giovane Il mio professore universitario Giorgio Fuà Piccolo è bello L'ho risentita Ma ha fatto molto piacere Perché piccolo? Perché Banca Suasa È una banca di credito cooperativo piccola Da noi mi viene la battuta Di dire che Quando uno telefona a Banca Suasa Il centralino ancora è a Mondavio Alla filiare di Fano e a Fano Senigallia, Senigallia Non risponde Brescia Non risponde Milano O non risponde in altra parte Siamo Dopo della fine del Banca delle Marche Nelle Marche rimaste le uniche banche Stiamo cercando di rimanervi Per l'importanza Per cercare di aiutare questo territorio Ma spero che anche i legislatori Con la scelta che il Presidente prima Simone ha detto Che aderiamo a Cassa Centrale È una scelta coraggiosa Perché è una scelta dettata dal fatto Che abbiamo chiesto E speriamo di rimanere autonomi Perché solo rimanere a contatto Col territorio Riusciamo a dare un aiuto al territorio Quindi conoscere appunto da vicino Le varie problematiche Certo, certo Chi meglio di noi conosce Noi ancora siamo una banca di relazioni Io stesso visito le aziende Io stesso parlo con gli artigiani Le famiglie E capisco le loro difficoltà Non sempre il PC, il computer Gli algoritmi riescono a stabilire una cosa Voglio ribadire però solo un concetto Siccome anch'io vengo da una famiglia modesta Quello che mi ha detto il Presidente Mi ha colpito in particolar modo Se continua così il sistema bancario Veramente Il povero rimarrà povero E il ricco rimarrà ricco Cioè quella differenza Che almeno fino alla mia generazione Sai che ci sono degli studi Che i giovani Dopo della mia generazione I giovani purtroppo Sono più poveri di noi Cioè Cercare Cercare di diminuire la distanza Tra il povero e il ricco Cioè far crescere Oggi è una banalità Ma non viene cresciuto Se non sei ricco Se non hai le capacità Le garanzie per comprare una casa Questi algoritmi Simone che dicevo Che fanno le altre banche Non ti permettono di farlo Noi con la conoscenza Quando porto una pratica In consiglio di amministrazione I consiglieri Questo è di Mondavio Allora guarda Mondavio si è una famiglia Che conosciamo da 30 anni Persona per bene eccetera Il figlio ha questa difficoltà Aiutiamolo perché dopo risolverà E' questo in sintesi In due parole Quello che fa Banca Suasa Una banca attaccata Al territorio Grazie comunque Della vostra partecipazione Grazie a tutti Grazie a tutti